Al via oggi alle 13 per concludersi domani allo stesso orario l'iniziativa promossa dal Partito Democratico di Modica al pronto soccorso del Maggiore Baglieri. 24 ore per constatare, spiega il segretario cittadino Dem, Salvatore, poi domani cosa accade. Raccoglieremo le esperienze di coloro che accederanno e anche di quelli che ci sono già stati. Ascolteremo le proposte dei cittadini e insieme alle nostre le consegneremo ai rappresentanti politici del nostro territorio. Mentre a Palermo si discute e si litiga sulle nomine di manager e dirigenti, spiega il segretario cittadino del PD, gli ospedali di pronto soccorso scoppiano. Una politica più attenta e sensibile invece dovrebbe occuparsi dei posti letto da potenziare. Quelli dell'isola sono al di sotto della media nazionale e quelli del nostro territorio ibleo sempre più dimenticato al di sotto di quella regionale. Degli intollerabili tempi delle liste d'attesa per esami e visite, delle stressanti condizioni di lavoro del personale sanitario, i disagi e le devastanti esperienze che subiscono gli utenti del pronto soccorso sono all'ordine del giorno. Ognuno di noi ha esperienza diretta e indiretta dei disservizi che riguardano, oltre alla carenza dei posti letto, la mancanza di personale medico all'interno dell'ospedale e in qualche turno anche nelle ambulanze medicalizzate. Da qui il via all'iniziativa. Obiettivo dare la parola ai cittadini.